La Lombardia mette sul piatto un pacchetto di indennizi di 167 milioni di euro per le categorie produttive economiche più colpite dalla crisi scatenata dal coronavirus. L'impianto di Delibere è stato presentato oggi dal governatore Attilio Fontana. Circa 22 milioni andranno ai cittadini entrati nella fascia di povertà in conseguenza alla chiusura dell'attività e che non hanno ottenuto ristori. Altri 3 milioni e mezzo verranno erogati in forma di bonus bollo a taxi, NCC e autobus turistici. Una cifra pari a 40 milioni è stata invece stanziata per la dote unica lavoro, 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA e privi di sostegno a reddito. E ancora 47 milioni complessivi per finanziare programmi di accesso al credito, credito ora e credito adesso Evolution. Ma lo stanziamento più importante, 54 milioni e 500 mila euro, è dedicato al sostegno di micro imprese e partite IVA con un bonus una tantum da 1.000 e 2.000 euro. Abbiamo seguito, spiega Fontana, la duplice logica dell'integrazione e della complementarietà degli ultimi interventi emergenziali del governo con l'unico fine di non lasciare indietro nessuno. Secondo la logica integrativa dei ristori statali abbiamo previsto sostegno alle micro imprese, fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato e ai lavoratori autonomi con partita IVA di quelle filiere produttive che risentono particolarmente degli effetti delle restrizioni causate dall'andamento della curva epidemiologica. Critico sulle misure varate dalla Lombardia, Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Seguendo un calcolo caro alla Lega che usa quantificare gli interventi dello Stato ripartendoli sui cittadini, dice, la Regione ha stanziato un contributo di circa 16 euro a testa. In pratica ci offrono pizza e birra.